un nuovo costume per il mare così se faremo un video sarò proprio con questo costume dai vai Ryan cosa hai comprato tu? io ho comprato un borsino sportivo e l'altro borsino aggiuntami i raccommenti aggiuntami i raccommenti se mi piace pure il mio costume non dicono le femmine perchè i maschi non hanno gusto grazie ragazzi i nei faccio ok vai dammi la mano ragazzi questo costume è bellissimo color sirena un battaglista Sì, sì. è che c'è 2,50 euro 1,50 euro 1,50 parmi fanno fanno è un'immagrazione, c'è un'immagrazione. C'è l'allà? Non, non, non c'è l'allà. Arriva, signora. ecco ecco Alla, mo' c'è il soggetto Guardate 250 euro, grazie 10 gram per 2 Allora, ciao! Grazie, questo è il mio zillo. Domani faremo un video anche quando andiamo al mare. Perché oggi ci siamo andati. Andate, andate! Andate, andate! A posto? Sì! Ah, l'ha preso lei! Sì! Andate! Stand to your house! Andate! Come andate! Come andate! 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 Alla giù? Ciao!